amici di inno al cinema bentornati sul canale per una nuova recensione ovviamente senza spoiler senza spoiler anche perché il film di cui vi parlo è uscito poche ore fa oggi giovedì 5 ottobre nelle sale italiane stiamo parlando del nuovo horror diretto da david gordon green l'esorcista il credente sequel nuovo sequel ex novo del capolavoro assoluto del cinema non solo horror ma del cinema mondiale di tutti i tempi l'esorcista di william fritkin che è uscito nel 1973 come ormai ben saprete quest'anno festeggia i suoi 50 anni e per l'occasione e anche per l'altra occasione il centenario della warner è tornato nelle sale anche italiane la settimana scorsa io avevo molta curiosità nei confronti di questo film perché il precedente progetto di una trilogia legacy sequel gestito da david gordon green con alti e bassi mi aveva appassionato non poco soprattutto nel suo secondo capitolo secondo me a questo giro c'erano più rischi visto anche il materiale di partenza ma partiamo con ordine io ho deciso mentre riflettevo sul film tornando a casa in auto di basare il mio ragionamento sull'esorcista il credente su tre domande che sono un po quelle che ronzavano in testa secondo me alla maggior parte degli appassionati e parto da quella più semplice da quella che mi sento di dire da un certo punto di vista la più retorica e anche inutile diciamocelo ma che secondo me è anche importante all'inizio del discorso da fare sul film ovvero ci si poteva aspettare in qualche modo che l'esorcista il credente di david gordon green avrebbe potuto tenere testa all'esorcista di william fritkin mi ci soffermo un minuto su con la risposta a questa domanda che è un secco inevitabile no ma perché io vi pongo questa domanda perché siccome è giusto porsela cioè è possibile entrare in sala nel 2023 con un sequel che arriva 50 anni dopo ricordiamo qual è l'idea del progetto la stessa della trilogia sequel dell'Halloween di John Carpenter scritta e diretta da david gordon green e i suoi collaboratori che tornano anche qui alla scrittura tra i quali ricordiamolo c'è un insospettabile Danny McBride autore horror di tutto rispetto per quanto mi riguarda l'idea è prendere l'esorcista del 73 e cancellare l'esorcista 2 L'Eretico, l'esorcista 3, l'esorcista La Genesi anche la versione del prequel Dominion diretta è rimontata da Paul Schrader secondo quella che doveva essere la sua visione originale e attacchiamo questi nuovi tre film perché appunto l'esorcista il credente dovrebbe essere il primo di una trilogia sequel direttamente al capostipite e la risposta dicevo alla prima domanda è assolutamente no come si può pensare nel 2023 di entrare in sala a vedere un sequel che si attacca a un film di 50 anni fa che letteralmente non per modo di dire per retorica non è un film di 3, 4, 5 anni fa è un film di 50 anni fa non solo ha fatto la storia del cinema ma da un certo punto di vista l'ha cambiato ha reso l'horror un genere più rispettato più anche mainstream da un certo punto di vista il fenomeno, l'esorcista del 73 ha fatto perdere la testa al mondo nel bene o nel male ed è impensabile, ammettiamolo, che un prodotto Blumhouse che con tutta la bontà del caso è una casa di distribuzione fortemente commerciale andasse a paragonarsi o avesse addirittura la pretesa da un certo punto di vista di rivaleggiare con i film di Friedkin questa, ammettiamolo ragazzi, è innanzitutto un'operazione commerciale l'ennesima degli ultimi anni che cerca di partire da un brand molto forte e di vendere appunto questi tre film innanzitutto sulla base del brand poi, ripeto, la trilogia di Halloween faceva lo stesso, quella di David Gordon Green con alti e bassi riusciva anche ad avere una sua identità a qualcuno ho fatto schifo, qualcuno l'ha adorata per me lo sapete, chi mi segue lo sa il primo film è brutto, il secondo è bellissimo, il terzo è interessante ma molto difettoso quindi io già quando mi avvicino a una visione di un film come l'esorcista del credente abbasso di standard le mie aspettative non posso pensarla, andiamo a vedere il sequel dell'esorcista chissà se sarà lo stesso capolavoro è letteralmente impossibile detto questo, la seconda domanda e questa, ripeto, la recensione assolutamente senza spoiler secondo me però è più specifica e importante e aveva bisogno di una risposta dalla visione diretta del film è ma questo esorcista è il credente quanto è sequel dell'esorcista di Friedkin? e qui la risposta sinceramente mi ha sorpreso perché la risposta è molto meno di quanto credessi lo sappiamo dai trailer il caso di Reagan viene fuori all'interno della trama del film la signora McNeil ha una parte attiva nella trama dell'esorcista del credente Ellen Boosty in 50 anni dopo riprende il ruolo della signora McNeil che cerca di dare consigli e supporto ai genitori con le bambine possedute senza fare spoiler il suo ruolo è molto più marginale di quanto mi aspettassi ma anche diciamo il precedente di Reagan stesso riecheggia più nella nostra memoria di cinefili che nella storia e nei fatti che vengono raccontati nel film e questo crea un paradosso perché se da una parte il chiamarsi l'esorcista del credente e vendersi come sequel diretto dell'esorcista di Friedkin ti rende immediatamente più commerciale di un generico film sull'esorcismo almeno sulla carta dall'altra ti mette sul groppone a te film a te regista David Gordon Green un enorme fardello di aspettative io pensavo che l'idea fosse diciamo mettere le mani in maniera più prepotente nella mitologia nelle presenze chiamiamole così del primo film invece è veramente a malapena accennato il primo esorcista in questo film dobbiamo però ricordare che sulla carta di nuovo è un primo di tre film e le cose potrebbero cambiare nei prossimi due capitoli della trilogia però devo dire che sono rimasto stupito da quanto marginale e alla fine ammettiamolo abbastanza inutile è il collegamento con l'esorcista di Friedkin ma su questo tornerò in seguito ripeto paradossalmente diventa un po' una maledizione perché tutti vanno a vedere il film e con in mente il film di Friedkin la terza domanda la terza domanda che io mi sono posto soprattutto dopo le ultime ore passate sui social dove sia giornalisti che rispetto che personaggi che sinceramente considero un pochino meno capaci di parlare di cinema hanno veramente detto peste e corna del film dell'esorcista e il credente ho visto chi l'ha letteralmente licenziato con le solite due battute è una merda basta raschiare il fondo vaffanculo c'è chi l'ha respinto categoricamente solo rarissimi cari in cui qualcuno ha detto si è carino quindi la terza domanda alla fine della visione che mi devo porre è ma il film che ormai appunto sembra essere stato respinto anche dalla critica americana è così brutto? secondo me no secondo me no ora faccio un marzullismo non è nemmeno bello ben inteso non credo che l'esorcista e il credente sia un film bello di per sé però come al solito se c'è una cosa che io preferisco combattere piuttosto che un film riuscito a metà è il modo sempre più spicciolo sempre più superficiale di come i film in 5 minuti vengano licenziati senza neanche la possibilità di farci due chiacchiere sopra e in questa recensione ci facciamo appunto questo due chiacchiere sopra partiamo dai difetti la scrittura del film è molto più debole di quanto sperassi e la cosa mi dispiace molto perché secondo me quelle due o tre intuizioni giuste Gordon Green McBride e l'altro sceneggiatore che ora non mi ricordo come si chiama le avevano avute ci sono dei punti di interesse nel concepimento della storia e nella concezione anche della storia e delle tematiche dell'esorcista il credente e secondo me le avevano azzeccate perché da una parte il film non vi dico come cerca inevitabilmente di lavorare anche un po' culturalmente di inclusione ma facendolo in maniera organica la storia e facendolo per quanto mi riguarda in maniera non pesante retorica e soprattutto intelligente e questo è il primo punto che mi ha incuriosito nel film ripeto la sceneggiatura è veramente un canovaccio minimo se ripeto togliamo l'esorcista e il credente il titolo assistiamo a quello che è il canonico film di possessione il bambino si entra in contatto ripeto tutta roba che è nel trailer contatto col demonio la famiglia sconvolta si prende consapevolezza facciamo il rito il film è questo è identico a tutti i film sull'esorcismo tutti più o meno basati sul canovaccio sulla struttura narrativa affermata nel 73 dal film di Fritkin e da quel punto di vista brilla poco di originalità l'esorcista il credente però appunto ci sono queste due o tre cose che ho trovato interessanti e le ripeto da una parte questa voglia di vedere l'esorcismo non tanto in quanto atto o rito da un punto di vista diverso forse anche un po' più moderno senza entrare nella retorica dall'altro invece dal punto di vista pratico arrivando verso il finale del film anche il rito dell'esorcismo trova una nuova natura una nuova dimensione e lì si va un po' a intaccare soprattutto ad andare contro quelle che sono le aspettative del pubblico date dal genere esorcistico chiamiamolo così al cinema io ho trovato molto interessante questa cosa il fatto che quello che dovrebbe essere un rito una scena una sequenza vista e rivista venga declinata in un paio di momenti con un paio di elementi che fanno parte della situazione da un punto di vista diverso diciamo che se l'esorcista di William Friedkin era un grande film sulla fede sulla paura dell'irrazionale eccetera qui è più la sfera umana piuttosto che religiosa a entrare in gioco davanti al male ed è tramite questa chiave di lettura che forse si può trovare la via per la salvezza da questo punto di vista il tradimento verso l'opera di Friedkin è assoluto le tematiche sono diverse seppur comuni da un certo punto di vista e a me questa cosa devo dire la verità mi è piaciuta però appunto non posso negare che questi spunti interessanti non posso negare che siano calati in una trama fin troppo ridotta all'osso dove i personaggi seppur tutti ben recitati penso soprattutto al protagonista al padre della bimbo afroamericana interpretato da Leslie Odom Jr caratterista per me sempre più interessante se non l'avete visto recuperate quel grandissimo film che è One Night in Miami che trovate in streaming su Amazon Prime meraviglioso presentato un paio di anni fa a Venezia è praticamente passato in sordina come tanti grandi titoli che sono usciti direttamente in streaming penso a Endowed meravigliosa infermiera vicina di casa della famiglia in questione la ricorderete soprattutto per il suo fantastico ruolo in The Leftovers i personaggi sono tutti ben recitati diciamo che non c'è stato un grande sforzo di caratterizzarli più del necessario anche se lì c'è un interessante mettere davanti una famiglia fortemente cattolica un uomo assolutamente non cattolico e ragionare anche su questo scontro non tanto idealistico perché non si arriva a parlare dei massimi sistemi della religione però questi due modi di affrontare la vita e anche questa crisi regata alle due bambine possedute l'ho trovato interessante secondo me appunto si vede che Gordon Green e i suoi cosceneggiatori avevano quantomeno voglia di esplorare delle tematiche che non fossero semplicemente situazioni triviali per raccontare l'esorcismo canonico esorcismo al cinema punto non tutto funziona perché si poteva lavorare un pochino meglio in fase di scrittura ma c'è anche un ma per me importantissimo ovvero David Gordon Green per quanto mi riguarda dimostra ancora una volta di essere un regista molto molto capace secondo me è sempre in grado con pochissimo ci sono dei jump scare nel film alcuni anche funzionano abbastanza bene devo dire insomma nonostante sia un esperto del genere e delle situazioni un paio di volte il saltino sulla poltrona l'ho fatto ma al di là di questi trucchi del mestiere devo dire che tiene bene l'atmosfera di questa provincia sospesa fra la razionalità e l'irrazionalità la fede e il come si chiama l'ateismo la speranza e la disperazione secondo me David Gordon Green è un regista che con pochissimo sa sempre girare i film in maniera molto quadrata molto precisa ed evocativa e devo dire che nonostante il film si svolga nei giorni nostri e si noti in tutto e per tutto si respira un po' almeno nella messa in scena un omaggio una voglia di ricalcare quello che era lo stile estetico e di ripresa dell'esorcista di William Friedkin quindi alcune carenze di scrittura secondo me trovano una resa quantomeno efficace sufficientemente efficace nella messa in scena per me sopra la media del genere di David Gordon Green e appunto nelle interpretazioni degli attori ripeto i jump scare funzionano non andato al cinema se allora scusate mi fermo quando ho trovato l'inciso se dobbiamo trovare un difetto importante al film è che fa poca paura io metto ovviamente da parte i jump scare quelli sono giochini fra il pubblico e il regista che ormai sono un po' inclusi nel prezzo del biglietto l'esorcista credente non riesce a mettere addosso allo spettatore quell'angoscia costante irrazionale che William Friedkin riusciva a mettere addosso agli spettatori col suo capolavoro di 50 anni fa ed è un peccato perché insomma speravo sinceramente di trovare quel tipo di angoscia molto permeante su di me durante la visione in definitiva l'esorcista credente è un film di esorcismo basico che diciamo cerca di elevarsi e di contestualizzarsi anche nella storia del cinema utilizzando un brand e buttando diciamo nel film un personaggio che abbiamo già visto nel film iconico appunto la signora McNeil ma si accontenta un po' del minimo sindacale però io su questo articolo l'ultima riflessione che ho fatto sul film insieme anche al mio amico Marco con il quale ho visto il film ho visto il film con lui e la mia ragazza Irene però io e Marco siamo un pochino più pipponi mentali quindi ci siamo messi a riflettere su quella che è stata l'operazione Halloween che ripeto ad alcuni non è piaciuta a noi invece è piaciuta non poco la nostra speranza a questo punto visto anche come finisce il film non ve lo posso dire ma visto anche come finisce il film è che il progetto l'esorcista possa ricalcare sia nella struttura che nella qualità quello di Halloween di Gordon Green and Company ovvero un primo film esorcista e credente come il primo Halloween con il ritorno della Laurie Strode interpretata da Jamie Curtis molto basico che si limita a rispettare i canoni del genere le situazioni più canoniche classiche viste e riviste del genere e reintrodurre la mitologia e dei personaggi nuovi oltre a dei vecchi anche se la presenza di Laurie Strode è molto più pregnante di quella della signora McNeill nell'esorcista e il credente e in caso di successo ora io questo lo do per scontato ragazzi perché siamo nel mese di Halloween c'è l'esorcista nel titolo e come sempre in casa Blue Mouse si è lavorato con un budget risetto un po' sopra la media della Blue Mouse però l'esorcista e il credente è costato 30 milioni di dollari mi volete dire che non fa un centinaio di dollari potrei sbagliarmi come mi sono già sbagliato altre volte nel corso dei mesi scorsi però insomma mi pare impossibile che il film non risulti un successo al punto da non giustificare la produzione dei due film successivi ma appunto quando questi due film successivi venissero prodotti spererei che quelle che sono le basi non tanto di una introduzione o reintroduzione di una mitologia ma di un universo narrativo chiamiamolo così anche per usare un termine più contemporaneo possano sbocciare così come succedeva in Halloween Kills che per molti è una ciofeca per me è un film incredibile e che quindi David Gordon Green e co con il secondo film possano osare di più magari anche di staccarsi dal canone precedente della saga e giocare un po' con quello che l'esorcista rappresenta per il pubblico per poi arrivare a una conclusione per me Halloween Hens è un buon film ma con dei difetti molto più importanti rispetto a Halloween Kills Halloween Hens rispetto a Halloween Kills se però l'esorcista il credente si dimostrerà essere solo la base minimi termini di un progetto per quanto problematico come quello di Halloween appunto applicato all'esorcista secondo me è legittimo aspettarci qualche sorpresa di più dal secondo e dal terzo capitolo di questa trilogia in definitiva però quello che mi sento di dire in chiusura è che in un mondo in cui The Conjuring è considerato a molti un capolavoro assoluto e tanti altri film veramente a minimi termini io ve lo dico a costo di farvi incazzare tutti ho preferito molto di più l'esorcista credente al molto più amato e chiacchierato Talk To Me e sapete come la penso se non lo sapete recuperate la recensione senza spoiler che è sul canale perché secondo me Talk To Me se la sente un sacco ma è molto più canonico di quello che sembra e allora a quel punto mi prendo l'esorcista che si va anche fiero di essere il tipo di prodotto che è e mi prendo quello che è più terra terra e con i piedi appunto ben fissi in terra appunto credo che questo tipo di film anche quando sono puri come si può dire oggetti commerciali meritino comunque visto anche l'impegno che ci è stato messo comunque il coraggio perché ci vuol coraggio da parte di un regista degli sceneggiatori di mettersi a scrivere il sequel addirittura una trilogia sequel di uno dei massimi capolavori della solecima questo non vuol dire che deve andare tutto bene rispetto al progetto finito però ecco io sono stanco di vedere i film che escano in streaming che escano in sala uguale alle serie tv che vengono presi masticati sputati neanche inghiottiti sputati lasciati lì sbavati a terra e non ci si pensa più credo che l'esorcista è credente nel suo essere molto semplice nel suo riprendere molti canovacci abbia dei punti interessanti di riflessione spero che questa video recensione vi faccia venire voglia alla fine di una visione piuttosto che far battutine sui luoghi comuni dell'esorcismo e del genere dell'esorcismo al cinema vi faccia venire voglia appunto di riflettere almeno su quei due o tre punti che almeno dal mio punto di vista sono decisamente interessanti in questo film molto basico che non brilla per originalità che forse non va oltre una mera sufficienza ma che secondo me non è tutto tranne la merda che molti stanno decantando online sempre quel briciolo in più di impegno soprattutto se nella nostra vita si vuole parlare di cinema per lavoro o quantomeno per passione insieme ad altri appassionati anche per questo motivo sono e sarò curioso nelle prossime ore di leggere le vostre opinioni sul film nei commenti sotto a questo video che credo bene sia l'ultimo di questa settimana della programmazione del canale di Inno al cinema la prossima settimana riprenderemo la programmazione con tutte le solite rubriche tutti i numeri del numero di il box office di Inno al cinema recensioni trap zap torneremo in live la prossima settimana io vorrei fare Watch Together come ho già detto ormai troppe volte di Jurassic Park ma come sapete tutte le novità sulla programmazione le potete scoprire seguendo la nostra pagina facebook e il nostro profilo instagram se volete potete seguire anche il mio profilo instagram privato michelinno85 iscrivetevi al canale iscrivetevi a Inno al cinema a Inno al cinema se non l'avete ancora fatto c'è anche la possibilità di abbonarsi al canale per avere video e contenuti e servizi in esclusiva questi erano i miei pensieri sparsi subito dopo la visione di l'esorcista il credente forse forse mi sono appena ricordato sempre in campo horror che di qui all'inizio del weekend potrebbe uscire la recensione in anteprima della nuova serie Netflix firmata da Mike Flanagan dal mio tanto amato Mike Flanagan la caduta della casa degli Usher degli Usher scusatemi che ho visto un paio di settimane fa in anteprima e che arriva sulla piattaforma della grande N rossa il 12 ottobre la prossima settimana giovedì prossimo quindi aspettatevi questo contenuto nel weekend e poi ci vediamo la prossima settimana con tanti altri contenuti lasciate i commenti qua sotto buona visione in sala qualora andaste a vedere dopo aver visto questo video l'esorcista del credente spero di avervi messo quel minimo di curiosità in più per spingervi ad andare in sala buona visione in ogni caso che andiate a vedere l'esorcista del credente o qualsiasi altro film che è ora in programmazione andate al cinema sempre e comunque grazie di aver seguito questo video un saluto e alla prossima iscriviti al canale